Raccontare il risorgimento partendo dai fatti è un esercizio di squallore, un dramma tale che rattrista. Soprattutto rattrista la situazione dell'ex regno delle due Sicilie, come è stato trattato l'ex regno delle due Sicilie, perché se ovunque è stata portata distruzione, menzogna e odio, lì in modo particolare è stato proprio annientato un regno. Pio IX, il 13 novembre del 1860, scrive al giovane re Francesco II di Borbone, salito al trono a 23 anni, completamente impreparato a fare il re. Pio IX gli scrive, ho fatto tutto quello che per mia parte era possibile per sostenere in vostra maestà la causa della giustizia e tanto più volentieri l'ho fatto in quanto che ho veduto la maestà vostra tradita da uomini cattivi o inetti o deboli. Ho detto tradito perché è la verità e gli stessi soldati del suo esercito vanno dicendo siamo stati traditi ed hanno tradito il nostro re. Chi ha tradito Francesco II? Beh, cominciamo dal cugino Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II che proferiva a Francesco, suo cugino, affettuosità e gentilezze mentre preparava la guerra e l'annessione, l'invasione del regno delle due Sicilie. Quindi, tradito dal cugino. Tradito poi anche dal massone Liborio Romano, suo ministro dell'interno, che è in combutta con Cavour e con Garibaldi. Liborio Romano, conoscendo la gentilezza d'animo di Francesco II, conoscendo anche la sua ingenuità, il 20 agosto gli scrive una lettera in cui gli consiglia cosa deve fare. Deve lasciare Napoli senza combattere. Senza combattere. La lotta farebbe scorrere fiumi di sangue. E anche ammessa la vittoria si tratterebbe di una delle vittorie malaugurate, peggiori di mille disfatte. Vittoria acquistata a prezzo del sangue, di uccisioni e di rovine. Quindi, qual è l'unico consiglio che il ministro dell'interno delle due Sicilie dà al re delle due Sicilie? Maestà, lasci. Maestà, lasci. Lasci che poi il tempo le darà ragione. Vediamo cosa scrive contemporaneamente a Garibaldi Liborio Romano. Il 7 settembre scrive a Garibaldi, all'invittissimo generale Garibaldi, dittatore delle due Sicilie. Con la maggior impazienza Napoli attende il suo arrivo per salutarla il redentore d'Italia e deporre nelle sue mani i poteri dello Stato e i propri destini. Ecco, questo è il simbolo del tradimento. Liborio Romano. Dissonore a Liborio Romano e ai poveretti che discendono da lui, in un certo senso. Dopo aver citato Pio IX Liborio Romano, voglio leggere una lettera drammatica, un manifesto drammatico che Francesco II, mentre se ne va da Napoli, scrive ai popoli delle due Sicilie il giorno dell'Immacolata Concezione, cioè l'8 dicembre 1860. Riassume la sua condotta, le motivazioni della sua condotta. Al momento in cui la rovina dei miei nemici era sicura, ho fermato il braccio dei miei generali per non consumare la distruzione di Palermo. Ho preferito abbandonare Napoli, la mia cara capitale, senza essere cacciato da voi, per non esporla agli orrori di un bombardamento. Ho creduto in buona fede che il re del Piemonte, che si diceva mio fratello e mio amico e che protestava a disapprovare l'invasione di Garibaldi, non avrebbe rotto tutti i trattati e violate tutte le leggi per invadere tutti i miei stati in piena pace, senza motivi né dichiarazioni di guerra. E adesso Francesco fa una sintesi del dramma dell'Italia meridionale. Le finanze non guarri un tempo si fiorenti sono completamente ruinate. L'amministrazione è un caos, la sicurezza individuale non esiste, le prigioni sono piene di sospetti, in luogo della libertà lo Stato d'assedio regna nelle province e un generale straniero pubblica la legge marziale, questo è stato fatto in Italia meridionale e in Sicilia, la legge marziale, decretando le fucilazioni istantanee per tutti quelli dei miei sudditi che non si inchinino innanzi alla bandiera di Sardegna. Uomini che non hanno mai visto questa parte d'Italia costituiscono il vostro governo. Le due Sicilie sono state dichiarate province d'un regno lontano. Napoli e Palermo saranno governate da prefetti venuti da Torino. Grazie. 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 Grazie.